Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I bambini non erano ancora usciti, sarebbero usciti pochi minuti dopo, perché secondo me sarebbe stata una tragedia, come hai visto qua, tutti gli alberi che sono caduti. È andata veramente bene. E' andata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.